ciao a tutti mi chiedono tantissimi come fare a tirare a 50 metri senza avere troppe libre oppure con un ancoraggio un pochino più alto del solito vedete laggiù il bersaglio di 50 metri e molto spesso si deve contromirare si deve contromirare e alle volte anche fuori dal pallione ma se riuscite ad arrivare a 40 metri mirando con la punta della freccia quindi mettendo la punta della freccia nel giallo a 40 metri a questo punto non avete problemi nel tirare a 50 metri come fare è molto semplice basta utilizzare il piatto della finestra e l'angolo che si forma con la proiezione della freccia sul piatto della finestra quindi la freccia formerà un angolo l'ombra della freccia la sua proiezione sul piatto della finestra formulando in quell'angolo ci mettete il giallo e con lo string dei 40 metri proviamo a vedere se riusciamo a farlo vedere ecco questa è la punta della freccia ovviamente con la punta della freccia non si riesce si deve mirare molto più in alto con la punta della freccia ma noi andiamo a mettere il piatto della finestra andiamo a mettere il piatto della finestra dove esattamente in questo punto ecco lo mettiamo così in questo modo siamo scuri che con lo string dei 40 metri riusciamo ad arrivare tranquillamente riusciamo ad arrivare tranquillamente a 50 metri provate sono sicuro che ci riuscite io con questo metodo arrivo tranquillamente a 70 metri e faccio anche delle buone rosate provate ciao